Dalla necessità di fare chiarezza e fornire dati scientificamente verificati su questa grave e diffusa patologia neurologica nasce il progetto Informa Alzheimer, una linea telefonica con un centro di ascolto per dare conto sullo stato dell'arte riguardo alle demenze. Il progetto è nato su impulso del professor Paolo Maria Rossini, direttore area neuroscienze della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCS di Roma, permette di fare chiarezza sulle fake news che circolano in rete sull'Alzheimer, attraverso l'attivazione di uno sportello virtuale che sarà contattabile tramite linea telefonica allo 06 30 15 70 18 oppure via email alzheimer-policlinico-gemelli.it da lunedì al venerdì dalle 8 alle 17. In occasione della giornata mondiale dell'ictus che si celebra il 29 ottobre, l'osservatorio Ictus Italia ha richiamato l'attenzione sui numeri di questa malattia e sulle azioni che possono essere avviate in collaborazione tra istituzioni, specialisti e associazioni e lo ha fatto annunciando un manifesto sociale, documento all'interno del quale verranno sottolineate le priorità organizzative ed assistenziali rivolte ad assicurare ai pazienti la migliore risposta sanitaria. Nel nostro paese intanto si registrano ogni anno circa 120.000 casi di ictus, dei quali circa un terzo porta la morte nell'arco di un anno e circa un terzo ad invalidità seria. Inaugurate all'ospedale Galliera di Genova tre apparecchiature di ultima generazione, MOC, TAC e risonanza magnetica. Abbiamo investito nel complesso oltre un milione di euro, di cui quasi 900.000 per l'innovazione tecnologica, ha fatto sapere il direttore generale del Galliera, Adriano Lagostena. Speriamo ora di poterle portare nel nuovo ospedale. Le nuove apparecchiature contribuiranno a formulare diagnosi più precise, premessa indispensabile secondo l'assessore alla sanità Sonia Viale, per garantire ai pazienti cure appropriate. Una corretta informazione, un'attenta prevenzione e un'adeguata terapia ormonale sostitutiva sono fondamentali per migliorare la qualità di vita delle donne in menopausa. È stato dedicato al benessere di queste donne l'Open Day organizzato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere, che ha coinvolto gli ospedali con i bollini rosa per offrire servizi gratuiti, clinico-diagnostici e informativi alla popolazione femminile, con consulenze e colloqui, esami strumentali, infopoint e distribuzione di materiali informativi. Un progetto ludico-motorio rivolto ai bambini affetti da disordini neuropsicomotori, nato su iniziativa dello studio medico Ripani di Roma in collaborazione con l'Accademia Acquananda. Si tiene all'Eur all'interno degli impianti sportivi del Comitato Italiano Paralimpico in Viale delle Tre Fontane. A parlarne con l'Agenzia Dire è Francesca Romana Ripani. Abbiamo dato vita a questa attività che prevede due moduli, uno in acqua ed uno a terra in palestra, quindi un'attività in piscina e un'attività invece da svolgere in palestra pensata proprio per questi bambini affetti da diversi tipi di disturbi, quindi paralisi cerebrali infantili piuttosto che sindromi rare. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it